9 partite da giocare, 10 punti da recuperare sul Milan, l'Inter non ha più margine d'errore. Benvenuti a Marassi, il recupero della 29esima giornata del campionato, Samp contro Inter. Kersticic allarga tutto per De Silvestri, possibilità di cross, arriva Sansone da dietro, colpo di testa. Conclusione centrale, Andanovic non ha problemi. Ancora un tentativo di verticalizzazione, questa volta è buona la posizione di Palacio, Romero lo stoppa. Palacio porta vuoto, arriva Cassano, Palacio cerca la conclusione, guadagna il corner, prima grande occasione della partita, al terzo minuto. Sansone per Riccardi, Andanovic ancora corner, occasione per Mauro Riccardi. Kersticic pensa forse per un attimo al tiro, poi lo prova. Andanovic in calcio d'angolo, grande conclusione di Kersticic. Spinge Alvaro Pereira, mette il cross, Palacio! Trova il gol, Rodrigo Palacio, l'undicesimo del suo campionato, 1-0 Inter. Riccardi dentro, ancora Poli, Poli calcia con il sinistro, viene fermato, non è finita, c'è Stigarribia! Alto di poco. Mette giù Sansone, va con il sinistro, Andanovic, calcio d'angolo. Cooper a Kovacic, poi De Silvestri. Il cross per Riccardi, colpo di testa, non troppo lontano dal bersaglio. Marassi Lopez, poi Obiang, Parandanovic. Altra ripartenza di Palacio. Palacio, fino in fondo, Palacio! 2-0, doppietta di Rodrigo Palacio. L'Inter la chiude. Fischia Banti, finisce 2-0 per l'Inter, Marassi.